Buongiorno, questa è la scatola del prodotto, poi c'è il certificato di garanzia e vi faccio vedere il prodotto collegato, quando è acceso si scende la luce rossa, non importa come l'ho posizionato perché tanto emette semplicemente dei ultrasuoni che dovrebbero tenere lontano le creature un po' moleste. Speriamo che funzioni, magari tra 15 giorni vi aggiorno la descrizione testuale se ci sono cose negative da segnalare.